Presentato dal Ministro della Salute Roberto Speranza lo studio sintetico sul dopo coronavirus che prefigura tre diversi scenari che fanno emergere come l'allerta clinica si prolungherà tutto l'inverno fino a marzo 2021 e riconosce che i rischi maggiori di un ritorno del contagio saranno sulla scuola. Non è nemmeno noto l'impatto che potranno avere le misure di riorganizzazione scolastica che si stanno mettendo in campo in questi giorni a scuola. Ripeto ogni giorno Speranza si tornerà e si tornerà in sicurezza. Le linee guida per ottobre cercano di minimizzare rischi posti dalle malattie infettive ed intendono mitigare il loro impatto. In concreto ripartiranno a breve le crociere e gli scuolabus, restano ferme le discoteche a porte chiuse e gli stadi, si sta discutendo con forza sulla capienza dei treni locali, 50-80% dei posti assegnati. Gli esperti dell'Istituto Superiore ammettono onestamente di non sapere in che condizioni arriveranno a fine estate e prefigurano tre possibili scenari. Il primo una situazione sostanzialmente invariata, focolai presenti, impatto modesto delle scuole ma tenute sotto controllo. Il secondo scenario evidenza una situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa, in questo caso dei nuovi focolai inclusi quelli scolastici. Infine il terzo scenario, situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario. Allo stato attuale appare evidente che la scuola è al centro delle attenzioni del governo, la grande incognita di fine estate con il suono della campanella fissato al 14 settembre. Epidemiologici e scienziati confessano di non avere una idea di cosa succederà. Non è nota la trasmissibilità del covid-19 nelle scuole. Non è noto quanto i bambini prevalentemente asintomaggi trasmettano il virus rispetto agli adulti. Tutto questo rende molto incerto il ruolo della trasmissione nelle scuole, ha concluso il ministro della salute Roberto Speranza.